Con noi Paolo Berizzi, inviato di Repubblica e autore del libro La Bamba e ideatore del progetto Tira Dritto Stop alla Cocaina, un progetto itinerante nelle maggiori piazze d'Italia dove avviene lo spaccio, dove avviene il maggior spaccio. Che impressione ha avuto oggi ad essere qui presente e tenere questo incontro dibattito davanti ai 1300 ospiti della comunità? Un'impressione straordinaria, mi aspettavo quello che ho vissuto, una giornata emotivamente intensa, importante, di condivisione che è la cosa più importante ed è la base del progetto Tira Dritto Stop Cocaina. 1300 ragazzi che gridano tutti insieme Tira Dritto. Noi lo stiamo facendo da tre mesi, lo abbiamo fatto a Roma, lo abbiamo fatto a Scampia che è il più grosso mercato di droga a cielo aperto d'Europa, lo abbiamo fatto a Bari lo scorso 11 giugno e lo faremo in altre 13 città. Quindi 16 tappe in tutto per occupare i fortini dello spaccio di coca in tutta Italia per dire agli spacciatori tirate dritto, lo diciamo anche ai ragazzi e per dire per un giorno queste piazze le sottraiamo agli spacciatori, le restituiamo alla legalità. La forza che San Patrignano con tutti i ragazzi ci hanno dato oggi è un patrimonio incredibile, cercheremo di usarlo al meglio, di farne tesoro e di utilizzarlo per gridare ancora più forte il nostro messaggio in tutte le piazze di spaccio in Italia. Ecco, un progetto che avrà tutta una sua evoluzione, ma finora che tipo di risposta ha dato, insomma che risultati ha avuto? Abbiamo avuto delle risposte incoraggianti, dei riscontri non solo mediatici, ma anche proprio da parte del territorio, da parte delle istituzioni, da parte di chi amministra le città dove andiamo ad occupare e sottrarre le piazze di spaccio ai signori della droga. Abbiamo avuto risposte incoraggianti dal mondo della scuola, dal mondo del volontariato, dell'associazionismo. In qualche modo Tira Dritto ha l'ambizione di essere il motore di una piccola rivoluzione culturale. Tirare coca non è da figo, è da sfigato. Vendere coca è da vigliacco e da verme. Questo è quello che diciamo in queste occupazioni, lo diciamo ai signori della droga, lo diciamo ai ragazzi. Tirate Dritto, se riusciremo a salvare anche solo un ragazzo dalla coca e dalla droga in genere, per Tira Dritto è un successo planetario. Grazie. Grazie a voi.